Un uomo, durante il matrimonio, ha mostrato a tutti gli invitati un video in cui si vede la sua novella sposa fare sesso con il cognato. È successo in Cina dove marito e moglie, dopo la cerimonia, hanno raggiunto il palco per il discorso di rito. Lei probabilmente si aspettava un video con i momenti più belli della coppia, invece il marito ha proiettato un video ripreso di nascosto in cui si vede la neo-sposa a letto con il marito della sorella dello sposo. Ovviamente, è iniziato un parapiglia in cui lui spintona lei, e la sposa gli tira il bucchè. Il video risale al 2019 ma è diventato virale su TikTok in questi giorni. Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale!